Gentili telespettatori, buona giornata. Siamo nel programma di La Sette di Concita De Gregorio e Parenzo e utilizzano la Schlein per prendersela con Giorgia Meloni. E così Concita De Gregorio dedica un lungo articolo alla vittoria della Schlein come segretaria del Partito Democratico e il successo della Schlein ha un impatto pure su Giorgia Meloni. Siamo sicuri? Dice non cambia, qui solo la storia del PD della sinistra, cambia lo scenario, cambia la politica, dice la De Gregorio. Ruota l'asse cartesiano della realtà. Improvvisamente una notte la donna nuova Giorgia Meloni torna a essere quello che è, l'ultima erede di un partito del Novecento. Una storia antica invecchia Meloni al cospetto di una donna ancora nei suoi trent'anni, che non origina dal comunismo come lei dal fascismo, una giovane di questo tempo, non figlia politica di, non madre, fino all'altro giorno non iscritta al partito che guida, non eterosessuale, niente di tutto quello che rassicura i conservatori e molto di quel che manca a chi vorrebbe cambiare la rotta della storia. Beh, quindi, in questa prima parte troviamo una Meloni che invecchia. È vecchia la Meloni che invecchia, non so, forse vuole alludere che la Meloni è invidiosa perché la Schlein è più giovane. Beh, mi sembra, come dicevano nel drive-in, a me, mi pare un impeto di livore ideologico barra invidioso. Beh, mi sembra un po'... Ecco, l'altra, una giovane di questo tempo, mentre la Meloni è una giovane degli anni settanta, mentre questa è una giovane di questo tempo, non figlia politica di, alludendo che la Meloni è figlia politica di Gianfranco Fini, non madre, beh, insomma, questa specifica non madre non la capisco. Fino all'altro giorno non iscritta al PD. Eh, probabilmente si vergognava. Oggi guida un partito che fino all'altro giorno non era iscritta. Questo la dice tutta. I due che hanno concorso per la segreteria del PD, Bonaccini, primo, si vergognava del PD, aveva fatto cancellare dai suoi social ogni bandiera del PD. Vi ricordate, no? Perché aveva capito che per vincere in Emilia Romagna doveva correre da solo, senza far capire alla gente che lui era un esponente del PD, se no avrebbe perso. Ecco, questo è uno. La Schlein, che manco era iscritta al PD, capite, hanno concorso due persone, una che non era iscritta e l'altra che si vergognava del PD. Bella lotta, eh? Beh, poi la De Gregorio dice è la prima volta che un partito esprime una segretaria diversa da quello indicato dai suoi iscritti. Eh sì, questa è una cosa abbastanza anomala. Gli iscritti al partito votano per Bonaccini, mentre quelli che vanno ai gazebo votano per la Schlein. E' qualcosa di un po' strano, se mi permettete il termine. Un bel po' strano. Beh, ci sono tante ipotesi. Forse sono andati a votare i grillini. Forse c'è gente che ha votato cinque volte, come l'eurodeputato Ciocca, che è andato al gazebo, ai gazebo del PD e ha votato cinque volte. Avrà speso anche dieci euro, però ha votato cinque volte. Mentre nei circoli gli iscritti hanno potuto votare una sola volta. Lì si è parlato delle tessere false, insomma. Però questo voto, che poi doveva essere un milione e tre, è sceso invece a un milione e quasi cento, meno dell'ultima elezione, un milione e mezzo, un tracollo ulteriore, ha vinto la Schlein. Bah, so che dire. Gli iscritti votano PD, e poi ai gazebo aperti a tutti votano la Schlein. C'è da dire che Bonaccini avrebbe potuto davvero cambiare il PD, farlo diventare un partito competitor di quello della Meloni, un partito che avrebbe fatto delle proposte alternative alla destra, mentre far vincere la Schlein vuol dire far precipitare il PD ancora più in basso. un PD trasformato in una specie di centro sociale. È la fortuna del centro-destra. Quindi, in quel milione e centomila voti, forse sono andati tanti che volevano distruggere il PD per votare votando Schlein. Perché se no, non c'è una spiegazione logica. Possibile che gli elettori del PD non abbiano capito che la Schlein è il vecchio. È peggio di letta. Non è quella il futuro per un partito continuare a dire sono cattivi e cantare bella ciao. Ecco. Insomma, è una roba un po' ridicola. Comunque, è così la De Gregorio dice la prima volta che un partito esprime una segretaria, una segretaria diversa da quella indicata dai suoi iscritti. Certo, perché gli iscritti sempre meno, un enclave di reduci asserragliati nelle correnti, non esprimevano più da anni il sentimento di un elettorato orfano che di fatti non andava più a votare, non si riconosceva più in quella ristretta rosa di vecchi e giovani vecchi capibastone. Sempre maschi, dice, scusate il dettaglio, devoti a qualcuno, figli politici di un partito ferocemente maschilista che ha sempre messo la donna in rosa per bruciarle, che le ha accontentate per silenziarle, che ha dato loro presidenze di cartone e le ha eliminate quando erano troppo popolari. Dice La misura esatta del terremoto la dà la reazione delle destre. Quando non sanno più cosa dire, quando gli va in blocco il pensiero, producono la formula radical chic. E la De Gregorio ce l'ha con questa definizione radical chic perché dicevano che lei era una radical chic, quindi non ha mai sopportato questa definizione. Dice Diventano pazzi, non trovano le parole, dicono radical chic, lo considerano un insulto come colto, beneducato, corretto, infamie, ridono sguaiati, oppure dicono sinistra radicale, ma se una cosa ha insegnato, la prodigiosa obiettiva scesa di Giorgia Meloni è che solo essere radicali paga. Da oggi la politica cambia perché di nuovo esistono una destra, un centro, una sinistra e a voi la scelta. Ma che razza di articolo è? un po' penoso, sinceramente. Grazie a tutti e arrivederci. A presto.